Per questa terza puntata di Fatti e Misfatti Metropolitani, oggi dedichiamo l'attenzione alla pressione fiscale. La pressione fiscale che nella provincia di Milano si è fatta sentire anche tanto negli ultimi anni e uno dei paesi premiati da Regione Lombardia, dalle ultime stime fatte anche con Anci, è risultato Tribiano. Tribiano che se lo limitiamo solo alla provincia di Lodi e provincia di Milano risulta essere al terzo posto come paese con la più bassa pressione fiscale. Abbiamo guardato molto e con attenzione a quello che è il carico fiscale nei confronti dei nostri cittadini, cosa che invece non è stata fatta in altri paesi e non lontano da noi Paullo risulta essere all'ultimo posto in graduatoria, forse primo nella classifica inversa, cioè come paese con la peggiore pressione fiscale. Ecco, è importante guardare con attenzione anche a queste cose. Su 1.527 paesi Tribiano della Regione Lombardia occupa il 93esimo posto. Bene, come abbiamo fatto in tutti questi anni? Abbiamo avuto il riconoscimento negli ultimi sei anni da parte di Regione Lombardia e siamo orgogliosi di questo primato, ma perché? Perché abbiamo guardato con attenzione alla pressione fiscale cercando di eliminare gli sprechi. Già su quello che viene pagato i trasferimenti dello Stato alle regioni e anche agli enti locali sono veramente ridotti e non si sa neanche se li riceviamo di anno in anno. Se poi carichiamo ancora di più sul cittadino è normale che comunque il colpo viene accusato in maniera anche pesante. Risparmiare anche solo 100 euro, 200 euro all'anno per una famiglia italiana è importantissimo. Quindi guardare con attenzione anche a queste cose che non hanno una visibilità enorme come può essere magari la realizzazione di una struttura, ma credo che comunque per ogni singolo cittadino il risparmiare qualcosa nel proprio portafogli significhi tanto e quindi le amministrazioni locali devono guardare con attenzione anche a queste cose. Per oggi ritengo che sia giunto il momento di salutarci, ci vedremo alla prossima puntata di Fatti e di Sparte.